Ciao da Motolutv, il canale moto di Youtube che è sempre in moto per te. Io sono Michele e questa è la recensione del casco Shoei GT Air. Nuovo casco 2014 di Shoei, casco integrale a 360 gradi, dedicato alla maggior parte dei motociclisti perché non è un casco sportivo, non è un casco turistico, non è un casco avventura, non è un casco urbano, ma è un po' di tutti questi, perché è un casco veramente completo. Durante la recensione scoprirete tantissimi aspetti che vi faranno capire quanta qualità e quanta cura ha messo Shoei nella realizzazione di questo casco. Shoei dal 1959 che realizza soltanto caschi alto di gamma. Shoei GT Air è un casco integrale con visierino interno, gli elementi principali, gli spot che vi voglio dare, che qui abbiamo un casco in fibre composite a 5 strati, 3 misure di calotta esterna, visierino interno, interni 3D completamente estraibili e lavabili. Sistema di ventilazione integrato molto funzionale, primo casco di Shoei realizzato completamente in galleria del vento. Questo lo si capisce dalle forme eccezionali che sono state realizzate. Un casco che fende l'aria stupendamente, qui non troviamo punti che creano resistenza aerodinamica, qui la forma si va a rastremare e poi nella parte posteriore viene portata via l'aria molto velocemente. Questo processo è aiutato da queste tre prese d'aria. Una presa d'aria anteriore molto facile di azionare e molto contrastata, che fa entrare aria fresca e comunque fa asciugare più rapidamente la visiera frontale. Poi abbiamo bellissima presa d'aria superiore, regolabile su due livelli, quindi decidiamo noi quanta aria far entrare internamente al casco. E poi un vero e proprio diffusore che è stato realizzato all'interno della calotta, che porta l'aria in questo scarico posteriore. Anche lui molto facile ad azionare, molto contrastato, anche con dei guanti riusciamo a aprire e chiudere molto facilmente questa presa. Vedete, tutte le prese sono realizzate a prova di guanti, quindi durante la marcia non abbiamo nessun tipo di problema ad azionarle. Parliamo ora della visiera. Qualità estrema nelle visiere Shoei. Shoei, primo produttore di caschi, a ottenere la certificazione delle visiere. Cosa significa? La qualità ottica di questa visiera è paragonabile a quella di un paio di occhiali, perché non andrà mai a distorcere in nessun modo la nostra visuale, non andrà a modificare le distanze percepite durante la marcia e assolutamente sarà un filtro UV al 99% dei raggi dannosi. Quindi viene denominata questa visiera UV 400, quindi un filtro eccezionale per i raggi solari. Molto bella la realizzazione degli scatti. Gli scatti sono molto contrastati, li riusciamo a individuare molto facilmente, ma abbiamo un ultimo scatto più contrastato che porta la visiera in parte alta. Andiamo ad abbassare la visiera, abbiamo lo scatto finale che va a sigillare la visiera stessa, quindi non abbiamo sfiffari d'aria, infiltrazioni d'acqua, la visiera è perfettamente sigillata. Aiutano a questo processo due molle che vengono inserite qui all'interno del movimento visiera che fanno in modo che la visiera sia sempre tirata e aderisca sempre perfettamente alla guarnizione tubolare doppia, perché qui abbiamo una doppia guarnizione lungo tutto il perimetro del casco, quindi la visiera si sigilla perfettamente. Qui abbiamo la possibilità di mettere anche il paranaso per fare in modo che durante l'inverno non andiamo a respirare contro la visiera e a pannarla più velocemente, quindi accessorio paranaso compreso nel prezzo. Altro accessorio compreso nel prezzo, visiera in un interno pinlock, viserino interno è quella viserina che si va a posizionare qui in corrispondenza di questi due attacchi interni e che va a creare un intercapedine d'aria all'interno della visiera che fa in modo che la visiera non si possa pannare, quindi abbiamo il nostro campo visivo anche in condizioni limite, sempre sgombro, viaggiamo in sicurezza. Come detto casco turistico viserino integrato, all'interno di questo casco è stato inserito un viserino integrato che ha le stesse proprietà della visiera esterna, quindi UV400, filtra il 99% dei raggi solari, ma soprattutto anti-fog e anti-graffio. Molto raramente si trovano i viserini interni realizzati anti-appannamento, qui lo troviamo. Allora, tante aziende hanno inserito un viserino interno all'interno del casco, ma solo una ha analizzato quelli che sono i risvolti relativi alla sicurezza. Inserire un viserino interno all'interno di una calotta di un casco integrale va a creare una problematica, perché noi dobbiamo fare spazio a questo viserino quando va a rientrare all'interno del casco, quindi dobbiamo togliere del materiale che serve per attutire gli urti e quindi materiale per la sicurezza. Shoei cosa ha fatto? Ha creato questa parte rialzata per fare in modo che il casco non perda in nessun modo tutte le sue proprietà protettive, quindi in qualsiasi punto di questo casco noi andremo eventualmente a colpire, l'urto verrà distribuito lungo tutto l'arco del casco, quindi il casco stesso ci va a proteggere a 360 gradi. Molto importante questa situazione di Shoei perché vi fa capire che non lascia nulla al caso. È vero, facciamo un casco bello esteticamente funzionale, ma non scendiamo mai a compromessi con qualche che è la sicurezza. Visiera ancora, vi faccio vedere che funziona stupendamente, vi faccio vedere il casco ancora a 360 gradi per farvi analizzare bene le forme, bellissime le grafiche, come sapete Shoei oltre ad applicare dei decala d'acqua molto elaborati e molto belli cromaticamente, fa un trattamento a caldo in modo che questi vadano a entrare all'interno del materiale e quindi non subiscono variazione di colore durante il tempo, quindi manterranno sempre i loro colori vividi e sicuramente brillanti anche dopo anni che abbiamo acquistato il casco, un valore che non sempre si trova nella concorrenza. Analizziamo adesso tutti gli interni del casco e le proprietà interne e di calzata. Allora, questo è un casco che è una calzata sicuramente sportiva ma comoda, quindi a 360 gradi lungo la testa, una calzata mi avviso ovale, quindi non è una calzata troppo corta ma una calzata che ci lascia spazio per respirare e soprattutto un ottimo campo visivo. All'interno abbiamo interni completamente estraibili e lavabili, cuffia interna realizzata con tessuto 3D che si adatta perfettamente alla nostra testa, guanciali perfettamente estraibili, anche gli elementi che vanno a ricoprire il cinturino stesso sono completamente estraibili e lavabili, stop wind, lo stop wind ci aiuta a mantenere il casco più silenzioso, non fa circolare spiffer all'interno del casco, ma detto questo d'estate si può togliere e rende il casco più fresco. Chiusura micrometrica realizzata completamente in acciaio, anche qui Shoei fa la chiusura micrometrica ma la rende sicura al 100% realizzandola in acciaio. E in più emergency quick release system, ovvero questi due laccetti rossi noi li tiriamo, andiamo a togliere i guanciali ancora prima di eliminare il casco. A cosa serve questa situazione? A fare in modo che in caso di incidente, in caso di urto, di pilota incosciente, riusciamo a sfilare il casco senza recare danno o ulteriore danno alla testa del pilota perché noi togliendo i due guanciali allentiamo la pressione sulla testa del pilota e andiamo a togliere il casco senza nessun problema, quindi senza creare attrito o fastidio. Anche nella parte posteriore, qui sotto, negli interni, è realizzata una griglia che fa in modo che l'aria calda e umida all'interno del casco defluisca più rapidamente. Come sempre vi ricordo, Shoei 5 anni di garanzia, quindi 5 anni di tranquillità sull'acquisto del vostro casco Shoei, prodotto favoloso, vi ricordo ancora Shoei dal 1959 produce esclusivamente caschi di altissima qualità. Da oggi in poi potrete seguire tutte le recensioni una dopo l'altra e tutta la gamma 2014, quindi restate collegati, registratevi al canale perché vedrete tutta la gamma 2014, tutti i vari modelli e anche la presentazione delle grafiche presentate sul canale. Come al solito vi ricordo, se avete domande, richieste di prove di prodotti in particolari o semplicemente delle curiosità, scrivetele sotto nei commenti, noi prima possibile vi risponderemo. In questo caso ancora di più vi ricordo, provate, provate, provate la qualità dei prodotti Shoei, un'azienda assolutamente di riferimento per il panorama mondiale dei caschi, ma soprattutto venite a toccarle con mano nel nostro negozio Motolook di Voghera. Ciao e alla prossima recensione.